La grande cura per i dettagli, la profonda conoscenza dei tessuti e una continua ricerca dello stile. In Italia vestire è un'arte, dormire anche. I materassi Magniflex sono fatti a regola d'arte, traspiranti e anatomici e favoriscono un riposo rigenerante e un comfort su misura per ogni esigenza. Magniflex, dormire è il piacere più importante.